Nazionale Italiana in visita dal Papa, sentiamo! Fammi gli auguri, dai Papa, fammi gli auguri, fammi gli auguri, fammi gli auguri, bella Papa! Mario per piacere, adesso mi raccomando siamo dal Pontefice, comportatevi bene, non mi fate fare figura di Berna col Papa, ci siamo tutti, facciamo l'appello, Palotelli Mario, Giacchieri di Andrea, il signor Lorenzo, dov'è? Sì che grande, è arrivato il mano col motorino, ma il signor arriva col motorino, perché? Eccomi sto arrivato, ma che voce ha, è un bambino il signor, ma che stai, impazzito? Effettivamente, stai alla prima convocazione qua, mica puoi fare le testa tua, poi c'hai 12 anni, puoi manco guidare? No, sono tutti bambini, mi rispettisco subito nell'Under 10, l'Under 10 cos'è? A Pede, stai attento che ti riga la macchina, ma cos'è un teppista il signor? Ma perché lui può guidare e io no? Non può guidare, sì, sì, non può guidare come mai, non può guidare e io no? Non puoi guidare, non puoi guidare e io no? BASTA! Che succede? Manica de Strozzo! No, no, Presidente è Presidente E tu, Palotelli che cazzo non dici mai un cazzo? No, no, no... No, no... Per me io dico niente, in silenzio... Eccoci arrivati, cendarme buonasera, amo un appuntamento dal santo padre, siamo pronotati a Bede per 46, a Bede con due B, una ce ne vuole comunque, ah c'è il citofono, molto gentile, chi è? Ratzinger, non ho sbagliato, sono andati da Ratzinger, è ancora lì Ratzinger buonasera santità, so a Bede, avevo pronotato una visita, avete sbagliato, non è più lui il papa, ma io non aspettavo nessuno, se cercate il nuovo papa è l'interno serie, avete sbagliato il citofono, scusate adesso, riprendo a fare Zumba, 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 il papa è il papa, era il papa, grazie mio, allora il tardo sei? fratelli e sorelle, buonasera, prego prego entrate, posso offrirvi qualcosa che so io, un Montenegro, un Mojito, un cuo appestato sono un cuo appestato no santina siamo più leggeri se c'è un bel bicchiere di vino che so io un bel sangue di giuda abbattuta è bruttissimo simpatico come una badillata sul muso non l'ha presa bene prego prego accomodatevi anzitutto vi ringrazio per aver organizzato quest'amichevole in mio onore come sapete sono un grande appassionato di calcio nell'argentina giocava anche mio fratello maggiore zanetti ma non ho cambiato ma se avete qualche domanda sono qui alla vostra disposizione uno alla volta alzate la mano mario primo portavoce italiano mi raccomando domande seri si si è seria abete mollami dai speriamo oh papà che papà che è ma come fai sta senza tipe non sono domande che si fanno al papà ecco lo sapevo voce caccia voce caccia no si figuri lascia pure caro mario a noi basta è l'amore della madonna bella risposta oh figa è un grande sto qua hai sentito si fa la cantante madonna no 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 non c'è niente a mario non si fa la cantante che t'ha batto ma per che annovinata gratuitamente senta lei come si fa a chiamare papà no come si fa chiamare Tu che macchina hai? Che domanda è? Caro Lorenzo, io ho la Papamobile Allora te la foto No, no, no Il Papa ha detto che ha la Batmobile Che figa Non è la Batmobile Adesso chiamo subito il giovinco E dico che sono stato dal Papa con la Batmobile Basta Manica destrozza Davanti al Papa Ma avevo detto non fammi fare figura del merda corpata Scusi Namo, fuori, fuori Fuori e levata dal cazzo No, no Ci vediamo